L'escusa al Partito Democratico, in modo particolare a Consigliere, a Saenzia e a Cuglioni, e io per esempio c'è l'atto di aver ricordato un voto su un atto, mi dispiace davvero che si sia soddisfitato e scarrato al tempo stesso un incendio di sentimenti, soprattutto nell'intervento, la produzione, l'azione che non rimane a casa, e poi si dicono, ma viene anche l'approssimazione di tutte le specialità, che potrebbe prendere bene, e cercando di apparire meno provocatore per fare in modo che la discussione si possa aiutare. Io se da un lato mi dispiace di quello che la mia, o che il mio ricordo, ha suscitato, da un altro vero che sia stato anche per il dibattito, perché non lo considero, come dire, stranio a un tempo a una questione di sentimenti, ma si è parlato di politica, si è parlato anche di quelli che sono stati gli anni, si è parlato di un sistema, si è parlato di un po' di quello che fosse, quindi non so parlare di più spesso, se che si possa arrivare in Italia, non vorrà, ma una luce su quelli che sono stati gli anni che noi somente, e quindi...